Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Oggi voglio leggere in vostra compagnia una poesia che ho scoperto grazie a Beppe che me l'ha suggerita e che ringrazio infinitamente. Si tratta di Contro l'usura di Ezra Pound. Buon ascolto a voi, buona lettura a me. Con usura nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata. Con usura non vè chiesa con affreschi di paradiso, arpe set luz e l'annunciazione dell'angelo con le aureole sbalzate. Con usura nessuno vede dei gonzaga eredi e concubine. Non si dipinge per tenersi arte in casa, ma per vendere, e vendere presto e con profitto. Peccato contro natura. Il tuo pane sarà staccio vieto, arido come carta, senza segala né farina di grano duro. Usura appesantisce il tratto, falsa i confini. Con usura nessuno trova residenza amena. Si priva lo scalpellino della pietra, il tessitore del telaio. Con usura la lana non giunge al mercato e le pecore non rendono. Peggio della peste e l'usura. Spunta l'ago in mano alle fanciulle e confonde chi fila. Pietro Lombardo non si fè con usura. Duccio non si fè con usura. Né Piero della Francesca o Zuanbellini, né fulla calunnia dipinta con usura. L'angelico non si fè con usura. D'ambrogio dei predis. Nessuna chiesa di pietra viva firmata ad amo me fecet. Con usura non sorsero Saint-Trophin e Saint-Hilaire. Usura arrugginisce il cesello. Arrugginisce arte ed artigiano. Tarla la tela nel telaio. Nessuno apprende l'arte di intessere oro nell'ordito. L'azzurro si incancrena con usura. Non si ricama in cremisi. Smeraldo non trova il suo memling. Usura soffoca il figlio nel ventre. Arresta il giovane amante. C'è del letto a vecchi decrepiti. Si frappone tra giovani sposi. Contro natura. Ad Eleusi han portato puttani. Carogne crapulano. Ospiti d'usura. Vi ringrazio per aver ascoltato fino alla fine. Spero che queste parole siano state di vostro gradimento e vi abbraccio e vi aspetto a breve con una nuova bellissima poesia. Ovviamente se avete delle richieste da fare e vi fa piacere ascoltare dei versi che sono cari al vostro cuore dalla mia voce non siate timidi e scrivetemelo nei commenti in un messaggio privato sui miei vari social. Io cercherò di accontentarvi un pochino per volta. Non c'ho voglia di rifare il video un'altra volta. Ciao da Rosanna. Prestissimo.